Domenica 1 marzo 2020 No, siamo nel 2020 Stupido step, mi devi rifare tutto Domenica 1 marzo 2020 Benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi Vi devo dire una cosa In casa mia non c'è nessuno Surry è dai suoi genitori perché è il compleanno di suo padre Tudor è in montagna E' andato a Sam Moritz Mi hanno lasciato in casa da solo E secondo voi mi hanno lasciato anche delle provviste? Mi sbagliate Sembra pieno ma perché c'è un barilotto gigante di birra Che tra l'altro mi hanno detto non è neanche granché Non c'è un tubo Non ho voglia di cucinarmi la pasta col tonno quest'oggi Perché mangio praticamente scatolette di tonno e pollo tutti i giorni Ciao Iron Man Come stai? Ti facevo leggermente più alto eh Robert Downey Junior sei un po' bassino Ho ordinato da mangiare E sta arrivando un burrito di sushi E un roll con l'astice gratinato Quindi quest'oggi ci trattiamo davvero molto bene E sapete per quale motivo? Per un'occasione molto molto speciale Voi lo sapete Quando si ordina del sushi a casa E' il momento migliore Per fare una reaction a TV Adesso dovrebbero partire effetti speciali Fighissi che probabilmente non avremo a disposizione Perché il budget è low Però spolliciate Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina E il codice creatore Stai per entrare nel negozio Io vi auguro Una buona visione E una buona magnata Al sottoscritto Hanno appena suonato Sì? Guarda allora Ti apro il cancello Ti vengo incontro Grazie mille Ciao Buona giornata Buon lavoro E' arrivato il pranzo Ci siamo Allora Il roll con l'astice E' arrivato Ed è arrivato Anche il burrito Non vorrei avere esagerato Ma quando si tratta di TV Non si vada a spese Soprattutto con il codice creatore Stepney Qua dentro abbiamo tutto ciò che ci serve C'è lo zenzero Quello rosa Abbiamo il wasabi Che mi è appena caduto per terra Eccolo qui Mostriamo la bustina di wasabi Un fazzolettino Due bacchette perché pensavano fossimo due a pranzo E invece sono solo io Tutto quanto è pronto Qui avete anche un'inquadratura sul cibo E adesso si vola sul canale di Tfew Come sapete Non ve l'ho mai nascosto Io sono un fan di Tfew E come vedete Guardo tutti quanti i video che carica La maggior parte perlomeno E' uscito di recente Un video dove gioca con la stretched resolution Nel 2020 La miniatura è bellissima C'è lui che sta così Che figo Spacchiamo le bacchette Ah E si parte 3, 2, 1 Via Passiamo subito un po' l'audio Che mi trapana le orecchie Allora ovviamente Endgame Arena Non avevo dubbi Eeeh Gli ha fatto malino a sto tizio eh Aia Aia Ti ha chiuso sotto E vabbè Possibile che io quando faccio la flickerata non le colpisco mai Però lo sparabende sto utilizzando anch'io in arena E' fortissimo Cioè in realtà mi piace molto Aia Questo è il launchpad mi è caduto giù di nuovo Che sta succedendo Io sono un fanboy Mi mangio l'uramaki Oh mio dio E' stranissimo Mi viene già da vomitare raga Ma che risoluzione è Cioè più che altro viene un po' il mal di testa a guardarla Attenzione Lo ha chiuso dentro Dai che c'hai le granate E tira gli a granatozza Aspettate che ha la salsa di soia io nel frattempo eh Bravo Non può scappare Dai c'hai il pompa E fallo fuori Beh è semplice la vita con la stretch address Non l'avresti mai visto quello normalmente Ciao gamer Facciamo un gioco Che io mi magno il mio burrito Ma tu non mi dai fastidio Comunque slurpy swamp è uno dei miei atterraggi preferiti in assoluto Lo sapete bene Pieno zeppo di vita Si sta alla grande Le è un piacere Pieno di casse E' full già da un po' L'uramachino L'astice gratitudine Perché parli con gente che non sta neanche giocando? Sta prendendo i barili Uella Rischiosetto lì eh Amico mio Devi stare più calmo Uè Vorrei sparare come Tfew Vorrei essere come lui a giocare Eh scardorato Non è male Un po' strano Però la res ci sta Settiamo la soia Nel burrito Vediamo un bel morso in ASMR Oddio Mi sta cadendo tutto Ma muta i tuoi amici Oddio Mi ha fatto male Eh vabbè questo è andato eh Vabbè comunque se guardi Tfew giocare la maggior parte delle volte sai che vincerà Quella è la cosa un po' brutta A tua destra Dai amico è tuo BAM Eliminato Sbaglio ho detto che mi sento un po' strano nel mio stomaco Taglionetto è all'agency Al centro Ok Il fucile tac È troppo forte Cioè c'è il rato di fuoco troppo alto rispetto al pump È assurdo Questo qui sta cercando di scappare Ma non ha capito con chi ha che fare Ciao amico Non esisti più Raga non c'è cosa più bella Di mangiare il sushi guardandoti più È incredibile Spero che la Sofia non guardi questo video Sennò dice Eh quando mangi con me non ti piace No non è vero ovviamente Puoi dire ai tuoi amici di stare zitti Oh C'è un tizio l'ha conato Eh quanto vorrei imparare a costruire come fa lui Anche se con la stretch mi sta venendo veramente il volto a stomaco Non si capisce niente Boom È rubato il tetto Ora sta sotto Gli fa un po' di pressione psicologica Dove si spacca prima? Che se l'altro apre il tetto può colpirlo Devi essere rapido veloce Lento e funesto Cioè rapido e funesto Eh cosa ho detto? Hanno messo il pad Sono scappati Finalmente hanno rimesso il launch padraga che bellezza È sotto Eh ma l'ho colpito senza vederlo Eh mi sa che questo qui poverino è andato Definitivamente Ciaone A cara What? Eh vabbè Raga Come fai a fermare rifiù in questo momento? È un mostro del male Lo vedete che mi magno ora? Un po' di zenzierino Guarda ve lo faccio vedere qua Che magno? Ho zenzierino Questo qui era andato al camion per prendere una cassa Poverino L'hanno polverizzato Dov'è? È riuscito a scappare? È un mini ninja Buono Prefire No Che non hai sparato lì? Ok adesso l'ho quasi fregato Ma l'altro è riuscito comunque a salire Vada come? Vada come? Dai c'è l'ai ground Fallo fuori Non vuoi uccidere Lasciami vedere il video League of Legends Teamfight Tactics Oh Conato Che culo 100 in faccia Forse è meglio se te ne vai amico Che dici? Arrivando pure la tempesta Vabbè lui c'è pesci in realtà Dico la verità Con la stretched non si capisce molto Perché c'è un pov e un fov Molto strano Molto strano Oh cavolo Mi è appena caduto del liquido a terra No ho quasi finito l'urramatico l'astice Sono triste Ma è ancora vivo Ma è impossibile sta roba E là Ti piacerebbe eh E uccidilo Oh E tre pesci ce la puoi fare Si sta cagando addosso Oh scusate ma c'è la barra del minutaggio Vi chiedo umilmente perdono Non l'avevo visto Sapete quanto dura il video in sé per sé Curati vai Ti fiu e Rispararti ancora uno scudino però eh Ognuno ne frega niente Ognuno ne frega essenzialmente niente Prima uccidi Poi ti curi Che non ha molto senso in realtà Perché se adesso si sparasse uno scudino Sarebbe perfetto Non sei full però adesso Hai fatto una mossa sbagliata Un tempo non mi piaceva Cioè vi rendete conto Che un tempo non mi piaceva l'aug Adesso non riesco a giocare senza Ha detto odio il fatto che abbiano reso il gioco uno di nuovo divertente Ed è veramente figo adesso Fortnite Devo confermare questa cosa Comunque tonnino Che buono Che buono tonnino Comunque buildano sempre tutti un sacco 84 nelle gengive Qua l'ha mancato Vabbè Tanto è È un meta di box fight C'è poco da fare Per salire in altezza poi Se prendi il rampino Vabbè Hai vinto la partita C'è poco da dire L'aug leggendario Il lanciarazzi No l'ha levato Ha preso solo pesci Mi sa che tra poco Perderemo la camera del sushi Dov'è il wasabi? Trovato Trovato Sbaglio Ho appena detto di avere la god mode Vuol dire Guarda che chi si loda Si loda ciccio Me l'ha detto a mia nonna Stai attento Ok Sono gli altri Che devono stare attenti a lui Eh Sì vabbè C'è il rampino Ciao belli Mi sentate il rampino Altifium Mi sono suicidati da soli Ha detto Voglio sbrigarmi Sono affamato O sono arrabbiato Guarda guarda Puscia tutti eh No fear of no one C'ha già 10 kill Madonna Io sono fortunato Se le faccio in due partite Stiamo Ammazzalo Ma scusa ma lui non aveva una drum gun mitica Mi sa che l'ha tolta per lo sparabende Nel senso la drum gun è veramente forte Questo lo salutiamo Boom Boom E molto hanno preso però eh Bam Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio 220 Nelle gengive Che bello È l'arena Che ti curi subito Della vita che ti hanno tolto È uno spettacolo Raga vedrete tanti video in arena Nei prossimi giorni eh Mi diverte molto di più Aia Situazione brutta e meschina La safe arriva Come ha fatto a non prendere danno a caduta Ah ok Forse la stretch Ed un po' ci Ci sbilancia Le proporzioni Dell'altezza Quello si è fatto male Ha paddato Mi sa che padderà anche lui Così Sperde solo 10 di vita Tanto c'ha 4 flopper ancora Bravo Meglio essere sicuri Questo laserato Mo me pio un altro Un altro rollino qua Mmm Sono il cliente numero uno Di questa burriteria Dai Cercano di fregargli l'high ground Oioioioioioioi Che culo Dai Qui l'ha ucciso per fortuna però eh Ti immagino che lo sotto lo fa cadere adesso e perde Non perde Raga ha devastato tutti Ma quante chi l'ha fatto Non ho neanche visto Ti ha divertito un botto E beh ci credo Chi è che non si diverte quando vince Eh L'ho detto raga Che fa venire il volta stomaco Salutiamo la camera del sushi È avanzato mezzo burrito Mi sa che lo metterò in frigo Però L'uramaki Lo uccidiamo insieme L'ultimo uramaki Vieni qua bello Che fai rimani attaccato Che fai ti vergogni Vorrei poteste sentire il sapore Sento ancora il pesce che sguazza nell'acqua Poverino Ho un po' di sensi di colpa Cari amici Questo video reaction a Tfew Termina qua Non lo facevamo da un bel po' Spero vi sia piaciuto Vi state divertiti Se è che vi è stato spolliciato Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Se vi va Ricordatevelo Il codice che è vero e stepni Noi ci vediamo al prossimo video Quasi veduto Buone Madonna non ho bevuto una goccia d'acqua In tutto il video Raga idratatevi Essere idratati è bello